L'Imu, una tassa ingiusta per molti italiani, sicuramente per quelli meno abbienti, che avranno salutato con favore il decreto legge che ha abolito definitivamente la prima rata e l'accordo politico che promette di cancellare anche la seconda. Il rimedio però rischia ancora una volta di rivelarsi peggiore del male. Già, perché per compensare il mancato gettito dell'imposta sulla casa, obbligato dai parametri europei a rimanere sotto il 3% del rapporto tra un deficit in ascesa ed un PIL in continua contrazione. L'esecutivo ha dovuto inevitabilmente mettere mano ad un mix di tagli e nuove tasse minacciate che rischia di rivelarsi indigesto. Naturalmente nel decreto ci sono anche il rifinanziamento della Cassa Integrazione Inderoga e la salvaguardia di altri 6.500 esodati. Per la prima in particolare si è arrivati al paradosso di togliere denaro, 250 milioni. Al fondo per l'occupazione, soldi che quest'anno non sarebbero stati utilizzati, fa presente il Premier Letta, ma è evidente che senza i 2,3 miliardi da reperire per coprire l'abolizione dell'acconto IMU, si sarebbe potuta trovare una soluzione più indolore. Circa un miliardo arriverà dai tagli ai ministeri, 300 milioni da sforbiciate su consumi intermedi e investimenti fissi, il resto da tagli alle autorizzazioni di spesa ed è da qui che vengono le sorprese più amare. Quasi la metà, 300 milioni, verranno tolti alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria italiana, omaggio all'importanza delle infrastrutture. Anche la sicurezza paga il prezzo della spending review cancella IMU, ci saranno infatti 55 milioni in meno per assumere poliziotti, vigili del fuoco e finanzieri. La lotta all'evasione, teoricamente un cavallo di battaglia del governo, non se la passerà molto meglio. 20 milioni in meno per assumere nuovi ispettori ai quali aggiungere i 10 milioni sottratti e il fondo che incentiva la mobilità e le trasferte del personale che combatte i contribuenti infedeli. Poi le tasse minacciate, già perché se dalla soluzione del contenzioso sulle slot machine e dall'extragettito IVA derivante dalla nuova tranche di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione non dovesse arrivare il miliardo e mezzo previsto e molti danno per scontata questa ipotesi. La mannaia calerebbe sugli acconti IRS e IRAP a carico delle imprese e sulle accise, comprese quelle sulla benzina. Già arrivata in alcune zone d'Italia a superare i 2 euro al litro e pronta a schizzare ancora verso l'alto in caso di aumento dell'IVA. Prossimo banco di prova del governo insieme all'abolizione del saldo IMU, altri 3 miliardi da trovare, non si sa bene dove.